Prima gara del girone di ritorno anche per Nerostellati e Paterno che si affrontano in uno stadio comunale Ezio Ricci con la tribuna centrale dichiarata inagibile a pubblico e stampa. Dopo il via vai di trasferimenti in casa pratolana esordio dal primo minuto per gli ultimi innesti, il difensore Trozzo, il centrocampista 40 e l'attaccante Onua Shi che insieme a Moscone forma il tandem offensivo Peligno. Tra i marsicani invece esordio dal primo minuto per il neo arrivato Mastroianni, principale riferimento avanzato della squadra ospite. I Nerostellati impattano bene il match ma da buona posizione Del Gizzi non inquadra lo specchio della porta avversaria. Al sesto minuto ecco l'episodio che decide la gara. Sul calcio di punizione battuto da 40 è Fellini a deviare il pallone di testa all'interno della propria porta. 1-0 è grande esultanza del pubblico Peligno. Al quarto d'ora i Nerostellati ci riprovano con la conclusione di Pelino senza la giusta precisione. Alla mezz'ora è capitano Del Gizzi a impegnare Di Girolamo direttamente su calcio di punizione mentre dall'altra parte il paterno si fa vivo in avanti con la botta di Mercogliano che chiama Amo alla presa in due tempi. Prima del riposo Moscone non sfrutta l'occasione per il raddoppio spedendo appena a lato da buona posizione. Nella ripresa il paterno torna in campo con un piglio diverso e ci prova subito con un colpo di testa di Mastroianni. Al cinquantasediesimo sono però i Nerostellati ad andare vicinissimi al gol. Prima con Verrocchi che trova la provvidenziale risposta di Di Girolamo e subito dopo con Onwashi che manda alto. Il paterno guadagna metri e si rende insidioso con una punizione del capitano Tabacco terminata appena fuori. Mentre al sessantunesimo Amo è decisivo sul tentativo dell'attaccante ospite Mastroianni. Il tecnico Pratolano Saccoccia spedisce forze fresche in campo inserendo prima Iacobucci per Verrocchi e poi Bruno in luogo di Pugliegli. Sull'altro versante Cancelli rileva Di Virgilio. La gara scorre su alti tassi di agonismo. I Nerostellati agiscono in ripartenza e quando Onwashi prova a colpire ecco una deviazione che manda il pallone fuori bersaglio. Nel finale Signi subentra a Pelino nei Nerostellati che non concedono più nulla ai Marsicani stoppati proprio al momento del dunque quando Mastroianni stava per metterla dentro vicino a un compagno di squadra ritenuto in posizione attiva e quindi in fuorigioco. Dopo cinque minuti di recupero il fischio finale del signor D'Adamo di Vasto manda tutti negli spogliatoi. Finisce 1-0 in favore dei Nerostellati. Per i pratolani è il secondo successo consecutivo e la terza vittoria nelle ultime cinque gare che hanno portato tutte punti preziosi nelle casse peligne. Nel dopogara parola ai due allenatori Francesco Saccoccia e Antonio Torti. Innanzitutto stiamo riprendendo fiato. Dopo tante partite che navighevamo in brutte acque finalmente siamo saliti su al sest'ultimo posto penso. Però volevo fare un elogio ai miei ragazzi che oggi veramente hanno dato anima, cuore, gambe, tutto per vincere questa partita. Non era facile considerando che c'eravamo quattro elementi nuovi perché i quattro sono andati via e ricompattarli non è stato facile. Però loro ci hanno messo tanto e sono riusciti nell'impresa di battere il paterno. Sono molto contento. Mister Torti una gara combattuta fino alla fine ha deciso quell'autorete al sesto minuto ma nonostante anche un campo che non era messo bene diciamo è stata una gara piacevole. È ovvio che era una partita difficile su un campo l'abbiamo visto sicuramente ha penalizzato sia noi che loro una squadra insomma noi abituati a giocare a palleggiare. Però era una partita che si poteva sbloccare su un episodio. Si è sbloccato al sesto minuto su questo stato gollo. Poi noi ce l'abbiamo messa tutta per poter pareggiare. Ecco vorrei un attimino rivedere il gollo che è stato donalato al nostro attaccante a Mastroianni. A me mi era pazzo che era l'uomo. Però adesso è ovvio. Rimane il rammarico perché secondo me il risultato di parità ci poteva stare. Grazie. Grazie.